Anche nel servizio, qui nella curia, è importante restare in cammino, non smettere di cercare di approfondire la verità, vincendo la tentazione di restare fermi e di labirintare dentro i nostri recinti e nelle nostre paure. Le paure, la rigidità, la ripetizione degli schemi generano staticità, che ha l'apparente vantaggio di non creare problemi, quietano a muovere e ci portano a girare a vuoto nei nostri labirinti, penalizzando il servizio che siamo chiamati a offrire alla Chiesa e al mondo intero. Restiamo vigilanti contro il fissismo dell'ideologia, stiamo attento, il fissismo delle ideologie, che spesso sotto la veste delle buone intenzioni ci separa dalla realtà e ci impedisce di camminare. Invece siamo chiamati a metterci in viaggio e camminare come fecero i magi, seguendo la luce che vuole sempre condurci oltre e che talvolta ci fa cercare sentieri inesplorati e ci fa percorrere le strade nuove.